Ciao ragazzi, oggi un video un po' particolare, un video AmarCord, nostalgico riguarda la mia esperienza che ho fatto in Casale Bauer fino a qualche tempo fa forse non tutti lo sanno ma io sono stato product specialist per 8 anni in Casale Bauer per il marchio Mapex è stata un'esperienza bellissima, incredibile, che mi ha fatto crescere tantissimo ho conosciuto un sacco di gente, ho partecipato a tantissime fiere ed eventi e ho realizzato tanti video per il marchio Mapex tra cui quello che vi propongo oggi perché non è mai stato pubblicato sul mio canale quindi buona visione iscriviti al nostro canale 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 iscriviti al nostro canale